Grazie, buongiorno a tutti. Con questo talk voglio parlare di un'esperienza mia personale che nel corso degli anni ho vissuto. L'esperienza è iniziata nel 2007-2008 fino ai giorni di oggi. Il nucleo è che oggi la formazione nelle nostre scuole, all'università, scuole superiori, viene fatta in un modo che crea persone che sono pronte ad essere degli ottimi dipendenti di aziende. Non c'è la cultura imprenditoriale, nessuno ti spiega come fare impresa davvero, neanche all'università di economia, le più nominate e prestigiose che abbiamo in Italia, non ti spiegano assolutamente realmente come fare impresa. Il risultato è che i migliori ingegneri informatici che escono dalle università sono pronti a lavorare per qualsiasi, io ho i migliori ingegneri informatici di Catania che sono pronti a lavorare per la mia impresa, piuttosto che magari fare loro impresa in qualche modo. Questo sia in Italia, io adesso mi sono trasferito a Tenerife, in Spagna, ed è la stessa identica cosa anche lì in Spagna. I migliori ingegneri informatici di Tenerife sono pronti a firmare un contratto quasi col sangue, a tempo indeterminato, con un'azienda, la prima che gli dà il lavoro. Perché parlare di questo cambiamento, di questa visione che mi ha permesso di vedere un mondo del lavoro completamente diverso? Perché spesso ci sono molte persone che potrebbero fare questo, hanno le capacità per fare questo, hanno le competenze. Non è che tutti possono fare questo, non tutti siamo imprenditori. Però c'è tanta gente che potrebbe farlo, ma se non sai come, se non vedi come, se non hai la visione, è impossibile, resti lì bloccato, farai quello che ti è stato insegnato di fare. Bene, mi presento brevemente, Nando Pappalardo, sono fondatore di ITEMS, un'impresa che sviluppa plugin per WooCommerce. WooCommerce è un plugin che trasforma WordPress in un e-commerce. L'e-commerce oggi più utilizzato al mondo, circa il 40% dei siti e-commerce su internet sono sviluppati con WooCommerce. Abbiamo iniziato nel 2011 insieme alla mia compagna come freelance, di questo vi parlo. Oggi ho 30 dipendenti, 120.000 clienti sparsi in tutto il mondo. Memorizzate questo numero, che dopo ci ritorneremo, su questi 120.000 clienti. Fatturiamo 2,5 milioni di dollari all'anno e abbiamo una crescita del 70% circa l'anno. Tutto questo è iniziato quasi per gioco. Come nasce l'idea di questo intervento? Lo scorso anno, sempre in occasione del WorldCamp Roma, sono stato in Sicilia prima alcuni giorni. Sono passato dalla Sicilia e ogni volta che torno in Sicilia con i miei ex compagni di classe, questi sono i miei ex compagni di classe, ci riuniamo, facciamo una cena, è rimasto un ottimo rapporto nonostante siano passati 30 anni. E niente, qui siamo tutti insieme. Si parlava, scherzando, durante la serata mi prendevano un po' in giro i ragazzi, perché sono l'imprenditore, tra di loro quello che è riuscito ad avere un po' più di successo nella vita, scherzando, mi diceva, Nato, adesso che fai un sacco di soldi, fatturi tanto, bla bla bla, perché non ci fai un bel regalo di Natale ciascuno, ci regali un assegno da 10.000 euro ciascuno? Per te non è niente, invece noi, è tutta la sera scherzando così, ti abbiamo sempre voluto bene, quando eravamo a scuola tu eri il mio miglior amico, ci hanno provato in tutti i modi. Da lì ho approfittato di questa serata di scherpi, tutta la sera siamo andati avanti così, scherzando così. Ho approfittato di questa serata per trasmettere un messaggio, che secondo me era molto molto più valido di regalare 10.000 euro a ciascuno di loro, perché io ho detto, se vi regalassi 10.000 euro a ciascuno di voi, questi 10.000 euro oggi ce l'avete, tra tre mesi sono finiti, e siete di nuovo allo stesso identico punto. Come quando c'è un barbone fuori dal supermercato, e gli diamo, anche se gli dai 100 euro, non hai cambiato assolutamente la sua vita. Io ho detto, quello che vi posso dare, che è molto più valido dei 10.000 euro, vale molto 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 di più, è cercare di trasmettervi il cambio di visione che ho avuto io. Questo cambio di visione mi ha permesso di vedere un mondo che prima non vedevo, cioè oggi vedo tutt'altro tipo di mondo del business, lo vedo in modo completamente diverso, e me ne rendo conto quando parlo con qualcuno, parlo con mia moglie, a volte ci confrontiamo, mia moglie è rimasta quasi con la mentalità da freelance, nonostante quello che abbiamo fatto. Mi rendo conto che le cose che mi dice lei, io vedo tutt'altro, vedo tutt'altro, cercherò di spiegarvelo oggi con questo intervento. Una piccola premessa, 2007, come vi dicevo tutto è iniziato più o meno da qui, questa è Sara, la mia compagna, è iniziata insieme a me, freelance, lei disegnava template e io li mettevo in codice. perché questa foto è perché se guardate bene dietro di lei c'è una cassa di cartone e sopra un televisore, non avevamo i soldi neanche per comprarci un mobile per reggere il televisore, neanche i comodini erano delle scatole di cartone, vivevamo in un affitto in una casa dove la doccia era in cucina, da mezzo metro quadro, non c'era il bidet, l'acqua fredda, senza acqua calda, una casa tremenda, però eravamo felicissimi insieme. Quindi questo intervento non vuole parlare di soldi, di denaro, perché la felicità la si può avere anche senza un centesimo in tasca, come nel 2007. La mia felicità del 2007 rispetto alla mia felicità di oggi del 2018 con i milioni di euro fatturati è identica, non è cambiata, assolutamente. Quello che ho guadagnato è tutt'altro e lo vedremo. Vi parlo del cambio di visione attraverso il mio percorso. Noi abbiamo iniziato come freelance con un blog, Your Inspiration Web, alcuni lo conoscono, ormai è fermo da anni, abbiamo iniziato nel 2009, per alcuni anni, 2009, 10, 11, 2012, è stato un punto di riferimento in Italia per il web design, questo blog. Il successo del blog perché? Perché condividevamo tutto, non avevamo nessuna paura a condividere quello che sapevamo, quindi tutto quello che apprendevamo, e apprendevamo tantissimo, studiavamo un po' dappertutto, sperimentavamo in prima linea, e quello che conoscevamo condiviso sul blog, disponibile a tutti in modo del tutto gratuito, questo ha permesso al blog di prendere una visibilità incredibile. Fino a qui lavoravamo come freelance con il cliente, praticamente il nostro tempo veniva scambiato con un singolo cliente, per volta. Il cliente veniva da me, come facciamo un po' tutti, mi chiedeva un progetto, facevamo l'analisi, facevamo il progetto, quindi il mio tempo, il tempo della mia compagna, dedicato esclusivamente a questa persona. Primo cambio di visione. Se riesci a dedicare, scusate, lo stesso tempo, lo stesso tempo, con lo stesso identico quasi lavoro, non a una sola persona, ma nello stesso momento, con lo stesso tempo, riesci a raggiungere milioni di persone, cambia completamente tutto. Se scegliamo un business dove non posso raggiungere milioni di persone, sarò sempre, sempre bloccato, avrò un limite, fino ad un certo punto potrò arrivare, e il limite è il mio tempo. Il mio tempo sarà solo dedicato a X numero di persone, o i miei spazi. Se faccio un ristorante, avrò 50 tavoli dove posso far sedere le persone, 100 tavoli dove posso far sedere le persone. Se faccio una catena di ristoranti, non ho più il limite. E guardate che si tratta solo di un cambio di visione, perché non è che fare una catena di ristoranti rispetto a fare un ristorante che ha successo, è tanto differente. Come nel nostro settore, idem, se è l'identica cosa, fare un sito internet per un cliente, o creare un template per migliaia di clienti, il lavoro è praticamente quasi identico. Semplicemente devi avere questa visione. Mi ricordo nel 2009-2010, quando abbiamo iniziato, la gente aveva paura che con WordPress tutti oggi potevano fare un sito internet, perché è semplice, scarichi, stalli, chiunque, il cugino, il classico cugino può fare sito internet, avevano paura che gli si rubasse il lavoro. Ma non vedevano che dietro si stava creando una nuova realtà incredibile, con nuovi modelli di business immensi. Noi su Team Forest, con un template sviluppato in due settimane, abbiamo fatturato 500 mila dollari. Cioè, roba che prima era incredibile da fare. Il fatturato di una vita intera di un lavoratore dipendente fatto con due settimane di lavoro. Quanti di voi conoscono Team Forest? Buona parte. Per chi non lo conosce, Team Forest è un marketplace. Marketplace è un e-commerce dove il proprietario Team Forest si occupa di gestire tutto, fa pubblicare dei prodotti a tantissimi autori esterni. L'autore si deve preoccupare solo di caricare il proprio prodotto. Al marketing, le distribuzioni, i clienti, gestisce tutto il marketplace. Team Forest è il più grande marketplace al mondo per la vendita di template per Wordpress. Noi abbiamo iniziato, dicevo, quasi per gioco, cercando di sfruttare questo cambio di visione. Quindi il primo, abbiamo detto, è raggiungere milioni di clienti. Anziché andare a sviluppare il sito, l'e-commerce per il cliente finale. Lui lo vendevo 5.000 euro, nel 2011 un buon e-commerce fatto a un cliente finale. Bene. Ma era il mio tempo, un mese di lavoro, fatto solo per quel cliente. Io sviluppavo un e-commerce, un template, e lo facevo sempre in un mese, anzi a volte anche meno, perché quando non c'è il cliente sei molto più veloce, fai esattamente quello che vuoi tu, non vai dietro alle mille cose, alle mille richieste del cliente. E quel template, venduto a 50 dollari, non 5.000 euro, 50 dollari, niente, lo regalavo praticamente, il template era regalato, ma ne vendevo 10.000 copie di quel template. Io fatturavo 500.000 dollari, utilizzando lo stesso identico tempo. Qui vedete alcuni ingressi di Team Forest, del 2012, quindi siamo agli inizi di Team Forest. Messe qualche template su Team Forest, iniziamo, primo mese 21.179, secondo mese 24.000 dollari di fatturato, 21.000, 30.000, 39, 43, 40, ed è così, a crescere sempre di più. Totale fatturato su Team Forest, ad oggi 3 milioni e passa di fatturato. Il tempo. Questo è mio padre. Sono delle foto fatte, sono le ultime foto con mio padre, fatte poco prima che morisse. Un giorno scopriamo che mio padre ha un cancro a polmone, 60 anni, 58 anni, 60 è morto. 58 anni. Quando scopriamo questo, un'intera vita lavorando mio padre, un giorno, in una delle ultime chiacchierate che ci siamo fatte, perché ovviamente sapeva cosa aveva e qual era la strada dove stava andando, che presto non ci sarebbe più stato, mi disse, se potessi tornare indietro, passerei molto, molto, molto più tempo con te, con voi, con i miei figli, con la famiglia. E con mio padre ho passato tanto tempo, per tanti anni abbiamo lavorato insieme, quindi non è stato neanche un padre di quelli poco presenti, abbiamo passato tanto tempo insieme, ma quando ti tolgono una delle cose più care che hai a disposizione e che non vediamo, tutti i giorni non vediamo, la diamo per scontata, ti rendi conto di quanto è prezioso. Ti rendi conto di quanto è prezioso. Ed è questo il concetto di cui voglio parlare oggi. Vi dicevo, non sono i soldi a dare alla felicità, ma i soldi, il denaro può darvi molto, molto più tempo per fare le cose che realmente sono importanti. Perché cresciamo con questa cultura di 40 ore settimanali di lavoro, lo diamo quasi per scontato come se fosse normale. Perché ci insegnano così, come vi dicevo, all'università, a scuola, ci si insegna questo, ma è tutto tempo completamente buttato via. Soprattutto se fate dei lavori come la maggior parte delle persone che non vi piacciono, semplicemente per avere uno stipendio e sopravvivere. Tempo della vostra vita buttato via, un terzo della vostra vita buttato via. Timothy Ferris, non so se qualcuno di voi lo ha letto, quanti l'hanno letto qui, scrive che si può lavorare quattro ore alla settimana e guadagnare molto, molto, molto di più di quello che si fa lavorando 40 ore a settimana. Io questo l'ho sperimentato in prima persona, ancora prima di leggere il libro di Timothy. L'ho letto dopo due, tre anni che lo sperimentavo. Quando fu il problema di mio padre, mi sono ritrovato a fare non più di quattro ore a settimana, per forza maggiore, non volevo, non stavo cercando questo, non l'avevo neanche visto questo che si potesse fare, ma forza maggiore dovevo stare dietro al mio padre, sono il fratello maggiore nella famiglia, quindi quello che andava dietro alle operazioni, chemioterapia, radioterapia, viaggi della speranza, per cui non avevo più il tempo né fisicamente di lavorare e principalmente la testa era da tutt'altra parte, mi rendevo conto che il lavoro non me ne fregava assolutamente nulla in quel momento, non andavo a letto pensando qual è la strategia migliore per fatturare domani il 50% in più, ma andavo a letto pensando a quello che stava succedendo a mio padre che presto non ci sarebbe più stato. Cosa faccio? Inizio ad assumere un ragazzo, gli spiego come sviluppare i template lui, passo le mie competenze, un'altra delle cose che molti temono, molti imprenditori o molti lavoratori autonomi restano piccolini perché hanno paura che il passaggio delle competenze possa creare nuovi competitor, poi gli viene fregato il lavoro, quando stavo facendo questo mio padre questa mentalità mi diceva stai attento poi ti fregano il lavoro, poi così, assolutamente, come vi dicevo non tutti abbiamo le stesse competenze, non è che perché ti trasmetto il come sviluppare un template dopo tu mi diventi un imprenditore, semplicemente si tratta di tutt'altro, quindi anche qui non ho avuto la paura di trasmettere le competenze, ho formato un ragazzo, questo ragazzo sviluppava i template per me e io dedicavo veramente, supervisionavo il suo lavoro, Sara disegnava i template, il ragazzo sviluppava e io supervisionavo, non facevo più di 4 ore a settimana e quei numeri che avete visto prima, 20.000, 30.000, 40.000 al mese, io li guadagnavo facendo 4 ore a settimana, è esattamente quello che dice Timothy, io l'ho fatto e voglio darvi un messaggio ancora più importante, molto più importante perché questa visione sono riuscito a vederla, a scoprirla poco a poco leggendo, formandovi con libri più o meno del genere, corsi più o meno che parlano di questi argomenti generalmente questo tipo di corsi, questo tipo di libri hanno il 99% dei commenti distruttivi, che gran cavolata, 4 ore a settimana impossibile, la gente neanche l'ha letto il libro e commenta, è quasi sempre così, è quasi sempre così, quindi non lasciatevi influenzare dal commento negativo, sperimentate, leggete, provate, mettete in pratica, vedete se funziona, se funziona bene, se non funziona niente, avete impiegato 2-3 giorni della vostra vita a leggere un libro che non è andato bene, non fa dato nulla, non fa lasciato nulla. Secondo cambio di visione, anche questa è una cosa importantissima, ovviamente il fatturato cresceva, il mercato c'era, avevamo bisogno di sviluppare più template e io continuavo ad assumere più persone, non mi sono fermato a una, due, tre, quattro, poi iniziavamo a vendere, c'era bisogno del supporto, quindi sempre più persone, sempre più persone, fino ad arrivare a 10 persone, sono arrivato a 10 persone e lì ho toccato il mio limite, perché tutto continuava a passare sempre sotto di me, io supervisionavo come vi dicevo prima, supervisionare una persona è una cosa, supervisionarne 10 ci mi portava via tutto il giorno, quindi ero di nuovo immerso dentro il lavoro pienamente, otto ore al giorno ed ero io il collo di bottiglia della mia azienda, se avessi dovuto assumere l'undicesima persona in quel momento, l'azienda sarebbe scoppiata, già bloccavo tutto, già c'erano ragazzi che facevano un task che gli era stato assegnato, lo completavano, aspettavano la mia supervisione e aspettavano una settimana magari per la mia supervisione e quindi per una settimana io bloccavo quel ragazzo, così con 10, quindi il mercato mi chiedeva persone in più, avrei fatturato in più se avessi avuto delle persone in più che sviluppavano, però se io l'assumevo per come era organizzato il mio lavoro non ce l'avrei fatta, avrei fatta ancora più danno, quindi mi sono reso conto che dovevo creare un qualcosa che funzionasse senza la mia presenza, dovevo assolutamente cambiare l'organizzazione aziendale della mia impresa. Ai tempi avevo letto Robert Kiyosaki, I quadranti del cash flow, un libro che mi ha aiutato ad allargare questa visione, Robert parlava che un vero imprenditore non è, come facevo io in colmo, può avere anche 50 dipendenti, ma non sei un imprenditore se tutto passa attraverso di te, un vero imprenditore è colui che può andarsene via dalla sua azienda per un anno, due anni, ritornare, e quando torna non la trova che è fallita l'azienda, la trova che è cresciuta, ha creato dei sistemi automatici che funzionano senza la sua presenza, questo è il secondo cambio di visione, creare dei sistemi automatici che funzionino senza la vostra presenza, non l'ho fatto dall'oggi a domani, io non sono nato imprenditore, ero un freelance, mi mancava assolutamente la cultura imprenditoriale, ho cercato un'azienda che si occupasse di organizzazione aziendale, abbiamo fatto due anni di consulenza, pagavo ogni mese 2000 euro di consulenza, e in questi due anni abbiamo completamente ristrutturato l'organizzazione della mia azienda, abbiamo applicato un sistema organizzativo che si chiama Olagrasi, molto innovativo, in Silicon Valley si usa tantissimo, un sistema dove non esistono capi, ciascuno è il capo di se stesso, anche qui la gente, il mio commercialista, il consulente del lavoro, ma sei pazzo, i ragazzi così, senza nessun capo, l'azienda ha fallitato dopo tre mesi, sono passati tre anni da allora, l'azienda è cresciuta di cinque volte, cinque volte, io sono andato via dall'Italia nel 2015, in Italia ho lasciato 15 ragazzi, qui ce ne sono qualcuno, lì ce ne è qualcuno, ho lasciato 15 ragazzi che sono da soli in ufficio, da tre anni, l'azienda è passata da fatturare mezzo milione nel 2015, a fatturare due milioni e mezzo oggi, nel 2018, cresciuta di cinque volte, senza la mia presenza, però dipendo ancora da Envato, ancora qui c'è un altro limite, sono ancora su marketplace, non mi sono spostato con un nostro sito, con un nostro e-commerce, vendo template su Envato, il denaro arriva, il 90% del fatturato, il 95% arriva da lì, e anche qui è qualcosa che non ti dà il pieno controllo sulla tua parte dell'impresa, cioè noi tutta impresa dipendiamo da Envato, se domani Envato dice non voglio più autori italiani sul mio marketplace, io sono per strada, io e i miei ragazzi, per cui questo non può andare, oppure i prezzi, i prezzi, oggi magari forse Envato li fa scegliere agli autori, ma quando vendevamo noi su Envato, i prezzi li decideva Envato, oppure se il template pubblicarlo o meno, lo decideva Envato anche questo, io facevo un template, due mesi, tre mesi di sviluppo con quattro, cinque ragazzi magari, alla fine era questo il tempo che ci voleva per sviluppare un template e Envato mi diceva no, questo non va bene ed era tutto tempo buttato via. Per cui non potevo più dipendere da Envato, avevo bisogno di prendere il controllo completo del mio business. Altra decisione importantissima, vado via da Envato, quando ne parlo con i miei ragazzi perché il 95% del fatturato veniva da lì, parlo con i miei ragazzi e dico facciamo un nostro e-commerce e proviamo a vendere per conto nostro. Mi hanno preso quasi per pazzo. Oggi, 2018, abbiamo fatto nel 2015 questo, il 99,9999% del fatturato dei due milioni e mezzo che fatturiamo viene tutto dal nostro e-commerce, ci siamo completamente liberati da Envato, su Envato sono rimasti dei template che continuano a vendere ma danno pochissimo ormai perché non vendiamo più su Envato praticamente, non mettiamo più nuovi prodotti e grazie a questo ho guadagnato il controllo non solo che Envato poteva decidere della mia vita in qualsiasi momento ma anche avere il controllo completo su altre variabili, su altre dinamiche che io chiamo avere il controllo del sistema. Vi spiego ancora meglio. Prezzi. se io decido di aumentare i prezzi del 10% sul mio e-commerce posso in base alla qualità dei miei prodotti in base a quanti competitor ci sono sul mercato a come si muove la concorrenza posso aumentare del 10% il fatturato del 10% i guadagni se tutto procede mantenendo le stesse vendite. Su Team Forest questo era impossibile da realizzare perché il prezzo lo decideva Team Forest. Quindi per un'azienda che fattura 2 milioni e mezzo incrementare il 10% del fatturato immaginate di che numeri si parlano sembrano piccole cavolate faccio il 10% per fare un esempio potrebbe essere il 5, il 3, il 2, l'1 quello che volete voi quando si parla di grandi cifre comunque le percentuali sono grosse e si parla di percentuali che un lavoratore dipendente normale potrebbe guadagnare in un'intera vita probabilmente mentre qui con un piccolo cambio che fai dall'oggi a domani li ottieni in un anno traffico anche questo mi permette di aumentare il fatturato l'e-commerce ha una percentuale di conversione ogni 100 persone 2 acquistano il 2% di conversione bene se persone ne arrivano 3 mila al giorno se ne faccio arrivare 4 mila o 6 mila raddoppio il fatturato anche su questo ho pieno controllo inizio a fare delle campagne di marketing inizio a muovermi in mille modi col marketing per portare quanto più traffico possibile sul mio e-commerce più traffico arriva più aumentano le vendite controllo completo anche su questo sul marketplace il traffico lo porto su un altro sito lo porto su team forest su team forest ci sono 10 miei template e 45 mila template di altri competitor quando porto il traffico sul mio sito li porto al 100% nella mia impresa tasso di conversione idem su team forest la piattaforma è quella non posso fare nulla io sul mio e-commerce posso fare mille cose aumentare il tasso di conversione come? migliorando l'usabilità dell'e-commerce facendo un processo di check out molto semplice facendo upsell portare i clienti a ricomprare la seconda la terza volta hai un migliaio di manovre che puoi fare o il controllo completo terzo cambio di visione avere il controllo completo del tuo business non dipendere da altri altra cosa importante sembra di denaro che crea denaro il moltiplicatore è il valore patrimoniale quando creiamo un'impresa e l'impresa è di tipo automatico automatico intendo che non dipende più da te dalla tua persona perché fin quando sei un autonomo anche se hai 50 dipendenti dicevamo se tutto il lavoro dipende da te non è non è vera impresa non è una vera impresa e non ha nessun valore se invece l'impresa procede in modo automatico senza la tua presenza stai creando un valore patrimoniale cioè quell'impresa ha un valore facebook ha un valore amazon ha un valore apple ha un valore la mia impresa ha un valore che paragonata a questi colossi è niente ma se ha un valore da 10 milioni io contemporaneamente a fatturare ogni mese centinaia di migliaia di euro ho creato da zero un salvadanaio che vale x milioni se oggi dovessi vendere la mia azienda trasformerei questa cosa virtuale in denaro fisico come un immobile non si vede ma c'è e vi parlo di questo perché perché un'azienda vale nel nostro settore più o meno c'è un moltiplicatore per calcolare il moltiplicatore ci sono mille variabili che entrono in gioco ma questo moltiplicatore nel nostro settore in campo digital va da 8 a 10 volte l'utile netto dell'azienda 8 a 10 volte 10-12 volte l'utile netto dell'azienda e-commerce è un esempio di questo perché è vincito e-commerce e-commerce nel 2015 è stata acquisita da automatic e-commerce è un plugin open source free completamente gratuito automatic l'ha acquisito per 30 milioni di dollari la cifra non è ufficiale però si parla di questo 30 milioni di dollari un software open source costo zero praticamente potevano fare un fork dall'oggi al domani perché era un'azienda che fatturava in modo automatico aveva 30 dipendenti 50 dipendenti quando è stata acquisita acquisito anche tutti i dipendenti acquisito tutto il know-how che aveva Uteams si chiamava Uteams e-commerce l'impresa che gestiva e-commerce bene vado a chiudere sono partito dalla cena con i miei ex compagni di classe alla fine quando ho provato a spiegare questo cambio di visione uno di loro un ragazzo tra di loro che ha un panificio mi ha detto hai avuto fortuna però perché hai questa passione per l'informatica quindi sei stato fortunato un po' questo a me mi ha subito dimostrato che non aveva assolutamente capito quasi nulla di quello che io avevo detto perché io ho portato il mio esempio che è in ambito informatico ma proprio per citare il suo esempio che c'ha un panificio dove lavorano il panificio era del padre è passato i figli sono tre fratelli lavorano tutti e tre fanno turni sabato domenica guadagnano però massacrati di lavoro anche loro come mio padre io ho fatto l'esempio di Granier in Spagna Granier è una catena incredibile di panifici non ha nulla a che vedere con l'informatica questo cambio di visione quando vi dico del cambio di visione vi dico che oggi mia moglie mi dice c'è l'asilo Montessori dove mandiamo i nostri bimbi a Santa Cruz che non non è non applica lo stile Montessori non è fatto bene mi dice perché non facciamo noi un asilo quando mi dice una cosa del genere io non quello non è business io vedo una catena di asili non un asilo oppure mi dice perché non facciamo una lavanderia perché ho portato le cose lì in lavanderia le lavano malissimo non c'è una sola lavanderia che funziona bene in tutta Santa Cruz noi quando facciamo le cose ci mettiamo al 100% cerchiamo di curare tutti i dettagli se la facciamo noi qui ma io non vedo una lavanderia non può più essere un business per me vedo una catena di lavanderie cioè dopo cambia completamente la visione non puoi più vedere un business di quel tipo dove hai dei limiti fisici enormi questa è la catena di granieri Spagna del panificio quindi non ha nulla a che vedere con l'informatica quello di cui vi ho parlato io formazione prima del cambio di visione prima di avere questo cambio di visione i miei libri che leggevo erano tutti libri tecnici era uno sviluppatore per cui CSS usabilità PHP MySQL dopo il cambio di visione nel 2011 ho smesso di sviluppare a mio malincuore perché mi piaceva tantissimo sviluppare dovevo scegliere o l'imprenditore o sviluppare per fare l'imprenditore dovevo formarmi da zero a partire da zero come fare la prima elementare la seconda elementare la terza elementare ho scelto quella strada ho iniziato da lì e queste sono le letture che ho iniziato a fare dopo il mio cambio di visione come vedete è cambiata completamente proprio la mentalità non guardo più il codice non guardo più le cose tecniche questo lo lascio fare ai miei ragazzi sono loro che si formano su queste cose questa è quella a cui prepara la nostra università qui alcuni libri tra tutti quelli che ho letto alcuni di crescita imprenditoriale altri di crescita personale spirituale altre sono delle biografie di grandi imprenditori se andate a vedere a leggervi le biografie di grandi imprenditori io ho imparato tantissimo da questo ho letto la biografia di Steve Jobs vedete che quasi tutti gli imprenditori hanno le stesse caratteristiche sono quasi tutti fatte con la formina se riuscite a sviluppare quelle caratteristiche ce l'avete fatta ripeto non è una cosa per tutti bisogna avere caratteristiche di leadership di comunicazione bisogna non arrendersi al primo colpo dicono che Edison ha fallito 10.000 volte prima di far funzionare la lampadina se si fosse fermato ad una delle 9.999 volte che ha fallito non avremmo la lampadina hanno tutte queste caratteristiche gli imprenditori cadono si rialzano cadono si rialzano McDonald ho fatto dei corsi con Art Baker il Milon Art Mind anche questo sempre più o meno sullo stesso tipo di mentalità e niente per finire cito José Muica ex presidente dell'Uruguay che dice che non veniamo qui al mondo per lavorare ma per vivere e come ho avuto l'esperienza purtroppo io con mio padre di vita ne abbiamo solamente una questo è tutto